La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore a partire dalle 8 di domani mattina martedì 27 luglio e fino alle 20 di giovedì 29 luglio nei comuni del territorio regionale. Classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone e pianeggianti potrà superare anche il 60-70% in condizioni di scarsa ventilazione. La sala operativa regionale in considerazione dell'avviso emesso dal centro funzionale della protezione civile invita i sindaci di tutti i comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relativi alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde, particolare attenzione devono prestare ai cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.